Il fringuello australiano è un piccolo uccello sociale originario dell'Australia che è diventato un animale, domestico popolare in tutto il mondo. I fringuelli sono piccoli uccelli, solitamente lunghi circa 10 centimetri. Hanno strisce bianche e nere sui loro corpi, con le femmine solitamente meno intensamente colorate rispetto ai maschi. Le femmine hanno spesso strisce marroni sul viso, mentre i maschi hanno le guance rosse. In natura si trovano solitamente nelle zone aride dell'Australia, come savane, semideserti e foreste secche. Sono uccelli molto socievoli e spesso vengono tenuti in stormi. In natura gli stormi possono contare fino a diverse centinaia di uccelli. Come animali domestici amano anche la compagnia di altri fringuelli e si consiglia di tenerne almeno una coppia. In natura si nutrono di semi di erba, materiale vegetale e insetti. Come animali domestici, vengono nutriti con cibo speciale per uccelli, che può essere integrato con frutta e verdura fresca. Sono sessualmente maturi già all'età di 3 a 4 mesi. I maschi di solito cantano per attirare le femmine. Dopo l'accoppiamento, la femmina depone le uova nel nido e l'incubazione delle uova dura circa 12 a 14 giorni. Sono animali domestici popolari per il loro aspetto adorabile. La socievolezza e la relativa facilità di manutenzione. Hanno bisogno di cibo di qualità, acqua pulita, un nido in cui dormire e spazio sufficiente per volare. Per maggiori informazioni visitate il sito .papagopark.com. Grazie per l'attenzione.